Si è presentato davanti al giudice Pietro Baffa Carmelo De Leo, il 47enne di Lequile, che lo scorso 18 agosto per ben due volte compì manovre folli alla guida del suo SUV nel pieno centro di Lecce, fino a salire sul quadrilatero di Piazza Mazzini. De Leo, attualmente in custodia cautelare in carcere, aveva chiesto di patteggiare la pena di due anni e due mesi di reclusione, nonché la revoca della custodia cautelare in carcere. Valutate le carte, il giudice Baffa ha respinto alla richiesta di patteggiamento, in quanto la pena non è congrua alla luce della particolare gravità dei fatti e della condotta spregiudicata che ha messo a repentaglio l'incolumità di numerosi passanti, oltre che quella degli operatori delle forze dell'ordine, con i quali il De Leo improvvisò un vero e proprio inseguimento nella notte per le strade di Lecce. Il magistrato ha inoltre rigettato, per le stesse ragioni, la richiesta di revoca della misura cautelare, confermando quella del carcere, anche alle luce dell'aver commesso un altro fatto analogo, due giorni prima di quello contestato in aula e aver commesso quest'ultimo, evadendo dagli arresti domiciliari, dimostrando, secondo il magistrato, un'evidente assenza del rispetto delle istituzioni. Adesso si procederà col rito ordinario, con la prossima udienza fissata per il 29 settembre.